Salve a tutti signore e signori, benvenuti in questo nuovo video su The Zion Theory, io sono Spazio. Oggi voglio parlarvi di Diamanti Grezzi, che è il film con Adam Sandler uscito su Netflix, un film che ha fatto già un po' discutere di sé, specialmente per quanto riguarda la probabile, la possibile candidatura agli Oscar che non c'è stata per Adam Sandler in questa interpretazione molto particolare, un ruolo che sicuramente non è usuale per Adam Sandler, anche se l'attore comico statunitense ha fatto già altre parti più serie, fra virgolette, mi ricordo ad esempio un film dal titolo Regno per me, dove faceva sempre un ruolo drammatico e quindi in questo caso lo vediamo un po' fuori dagli schemi, dai suoi schemi usuali, film comici, film demenziali che ci propone ogni volta il buon Adamo, che alcune volte ci ha fatto ridere, altre volte un po' di meno, però insomma siamo tutti affezionati al buon Adamo e mi verrebbe da dire che questo film, Ancat James in inglese, Diamanti Grezzi per l'appunto in italiano, possa rappresentare in qualche modo la riscossa di Adam Sandler, che è sempre stato visto in una sfera comica e invece qui si dimostra molto molto capace anche di sapere interpretare dei ruoli completamente diversi appunto da come noi siamo abituati a vederlo e lo fa davvero in maniera molto convincente, lo fa molto molto bene. Diamanti Grezzi è un film che potete trovare su Netflix, Netflix che ultimamente ci sta proponendo dei film molto interessanti, dei film anche importanti, no? Perché basti pensare agli ultimi Oscar, dove c'erano presenti film come I Due Papi, la storia di un matrimonio con Scarlett Johansson e Adam Driver, peraltro anche gli attori in questione per l'appunto, sia Scarlett che Adam Driver, sono stati candidati agli Oscar. Così come del resto Anthony Hopkins e Jonathan Price in I Due Papi, quindi bisogna dire che Netflix la sta facendo un po' da padrone, sta ritagliandosi questo ruolo importante negli ultimi mesi, anche per quel che riguarda non soltanto serie originali, no? La maggior parte delle volte noi andavamo a concentrarci più sulle serie che poteva propinarci, poteva metterci in catalogo Netflix e invece stanno uscendo dei film molto molto ben fatti, quindi complimenti a Netflix. Diamanti Grezzi per l'appunto rientra in tutto questo discorso, un film sorprendente, un film che non me l'aspettavo, ma che comunque devo dire è ben riuscito, forse un po' troppo claustrofobico, forse un po' troppo ansiogeno, ma nel complesso bisogna dire che riesce a trovare, a mio modo di vedere perlomeno, la giusta misura, il giusto equilibrio. Perché c'è una regia molto frenetica che dà proprio il senso di questo continuo susseguirsi di eventi bizzarri, insomma all'inseguimento di quella che è la vita e il percorso del protagonista, Howard Rentner, però c'è da dire che non risulta mai troppo eccessivo. Poi questo dipende anche e naturalmente dai vostri gusti. Ma chi è il protagonista principale di Diamanti Grezzi, il protagonista che comunque sia attira su di sé tutte le attenzioni? Stiamo parlando di Howard Rentner, per l'appunto interpretato da Adam Sandler, un gioielliere ebreo di Manhattan con il vizio delle scommesse, indebitato con gli strozzini, in particolar modo con il cognato Arno. Ed è proprio Howard il pilastro del film, perché nel cast comunque sia non ci sono attori di grande spessore, ci sono attori che fanno un po' da corollario, che fanno un po' da supporto a quella che è la performance di Adam Sandler, ed è quindi lui che attira su di sé, che fa gravitare su di sé tutte le attenzioni, e di quella che è la sceneggiatura per l'appunto del film. Il nostro caro Howard vive nella speranza di poter risollevare la sua situazione, ma allo stesso tempo con le azioni che compie, con i gesti che fa, non fa altro che peggiorare la situazione di partenza, e quindi sembrerebbe quasi un controsenso, peraltro in un personaggio che vive appunto di contraddizioni e controsensi, che ci vengono comunicati del resto molto bene dalla performance di Adam Sandler. Scelte senza senso, bugie, azzardi a destra e a sinistra, insomma una confusione, un caos in cui Howard sembra trovarsi a suo agio, ed è forse proprio questa la vita che Howard ha disegnato per sé, perché comunque sia riesce a trovarsi, a districarsi bene in un caos che probabilmente avrebbe fatto impazzire molti, ma non in questo caso Howard. Ma qual è l'evento principe e su quale si concentra la storia del film? L'evento fondamentale è l'arrivo di un opale nero dall'Etiopia, ottenuto, non c'è bisogno nemmeno di dirlo, illegalmente da Howard, un opale che lui vorrebbe vendere all'asta per guadagnarsi una somma ingente di denaro, affinché poi possa eliminare, possa di fatto cancellare, tutti quelli che sono i suoi problemi, i suoi debiti. L'evento che però cambia un po' le carte in tavola e sconvolge i piani di Howard è l'arrivo nel suo negozio, nel suo incasinatissimo negozio, questo va sottolineato, l'arrivo del campione NBA Kevin Garnett, interpretato proprio da Kevin Garnett, ex stella dei Boston Celtics. Arriva Kevin Garnett quindi nel suo negozio e, vedendo l'opale di Howard arrivato dall'Etiopia, si convince che quella pietra possa avere un'influenza positiva sulle sue performance, sulle sue prestazioni in campo. E allora stringe un piccolo accordo con il gioielliere Embreo e se la fa prestare. Però questo prestito non fa altro che incasinare ulteriormente la vita di Howard e quindi si innesca un vortice di situazioni assurde, nel quale il nostro caro protagonista farà molta fatica a districarsi. I registi del film sono Josh e Benny Safdie che riescono a realizzare un piccolo gioiello per rimanere un po' in tema con quella che è il mestiere di Howard. Un piccolo gioiello perché, devo dire, non me l'aspettavo, ma tutto il film riesce ad avere una sua identità, un suo equilibrio. Magari a volte può risultare un po' stucchevole, ma secondo me neanche tanto, come dicevo prima. C'è questo ritmo forsennato, questa intensità che si avverte proprio per, come dire, seguire anche quelli che sono i ritmi per l'appunto della vita di Howard perché è un personaggio, è un uomo che si districa e si muove in mille direzioni per cercare di rimediare a tutti i problemi, a tutti gli errori che crea con le sue azioni, con i suoi vizi e con i suoi modi di essere. Per cui credo che questo ritmo incentivato e aumentato anche da tutta l'atmosfera che regna intorno al film, questa ambientazione new yorkese molto frenetica, si sposa ecco bene con la sceneggiatura, con quello che è proprio il personaggio di Howard. Quindi possiamo parlare di un caos voluto, un caos desiderato dai registi, un caos in cui i suoni, i rumori della città, le azioni appunto di Howard riescono a conferire al film anche una tensione, un'ansia che per me funziona. Certo potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio perché magari chi non è abituato a ritmi così frenetici potrebbe trovare stucchevole un po' il tutto e potrebbe anche stufarsi a lungo andare della visione di questo film. Però torno a ripetere, secondo me tutto rientra in quella che è l'identità, la coerenza, ecco la coerenza che i registi vogliono dare al film perché stiamo parlando comunque di un protagonista che appunto comunica con il suo carattere, con la sua attitudine questa ansia, questa tensione e anche tutta l'atmosfera e tutta la regia sono rivolte proprio a raggiungere questo obiettivo. Vorrei sottolineare anche la colonna sonora, le musiche che per me sono molto azzeccate e che rientrano proprio in quello che stavo dicendo poco fa, a contribuire a questo diciamo viaggio che mi verrebbe da dire quasi psichedelico e quindi danno quel tocco in più che non guasta, anziché fa sì che il film possa alzare l'asticella della qualità e ovviamente come dicevo anche nell'incipit qui il protagonista assoluto è per l'appunto Adam Sandler che riesce a fare veramente un ottimo, un ottimo lavoro. Comunica attraverso la sua performance la furbizia e la malizia del personaggio abituato appunto a destreggiarsi in situazioni losche, allo stesso tempo però ne emerge l'ingenuità, un personaggio che fondamentalmente è immaturo e quindi non sa ragionare con logica e con buon senso ma è preda degli eventi in cui viene coinvolto e sembra però che riesca a trovare proprio la sua dimensione in questi eventi che lo travolgono. Si cala perfettamente nella parte, quindi Adam Sandler comunica, ci comunica sempre con la sua vena ironica perché quella c'è sempre, fa parte della natura comunque di Adam Sandler però devo dire che il personaggio nel complesso è ben riuscito, è ben, molto ben caratterizzato, per alcuni potrebbe sembrare eccessivo ma secondo me ci sta, ci sta nel film, in quello che è la storia, non è troppo stereotipato, insomma questa potrebbe essere l'accusa e la critica che potrebbero muovere alcuni e invece per me è ben equilibrato. La sceneggiatura è comunque sia funzionale a raccontarci questo susseguirsi di eventi grotteschi quindi è sicuramente da apprezzare, da lodare la regia riesce a trasmetterci il caos che regna nella città e nella vita appunto di Howard insomma nel complesso devo dire che si tratta di un buonissimo film un film che segue la frenesia dei pensieri del protagonista ed è proprio il protagonista che è il centro, il centro di tutto è la storia di questo uomo che è una contraddizione totale, una contraddizione continua di atteggiamenti e di pensieri. Certo dispiace che Adam Sandler non abbia avuto questa candidatura, ci sono state queste polemiche anche da parte sua sul fatto di non essere stato considerato dall'Academy per un'eventuale appunto candidatura agli Oscar però c'è da dire che quest'anno la concorrenza era spietata, molti attori bravi che hanno meritato la candidatura per cui Adam ha fattene una ragione, magari dai prossimo film serio, drammatico potresti avere la tua chance, quindi non demordere. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, vi consiglio quindi di vedere Diamanti Grezzi, fatemi sapere quello che ne pensate a riguardo, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace sotto il video qualora il contenuto sia stato di vostro gradimento, di condividerlo e di dare un'occhiata alla pagina Facebook. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti da Spazio. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video,